un canolo, che bello canolo, io sogno un zitto e io sono bello caraccio attenzione, la pizzeria Sal Malik è raputa io mi chiamo Rosario, c'è una questione complimenti per le tue movenze ma volete tu, mi sembri una valeria allora, visto che lavorassi con ella, stai parlando finissimo l'inglese forse, prese mechini scusa, ma adesso devo andare a tirare una pisciata che fanno? un bagno? no, non c'è bisogno, c'ho due peccati tonno aspetta di qua no, non posso ma che fanno? ci stiamo il cretino non c'è bisogno non c'è bisogno non c'è bisogno e che fai con i c non c'è bisogno sono la mia ha il per con se lo prende il raffuolo India che pensi va che ho oh ma sta tagliando qua agito sinio gioco verde e speriamo che la donna passa con questi azutti India cae che pazza fermo ora la chiamo scusa che cosa è questa? grazie sono saletta? diciamo perchè non c'eri qui a me ti ha qualcosa di altro valentieri grazie vedremo quanto mi costa stasera allora scusa non mi chiamo non mi chiamo ma non mi senti di queste parti tu? eh sì infatti sono la scianiera e si sento dell'accendo vero? sono davvero da mod si si sento e anche il tuo aspetto esterio è proprio nordica e che ci fai qui? sai al nord il lavoro scasseggia e invece qua a sud con tutte queste fabbriche sai io sono brevissima come segretaria ho tanta esperienza sono brevissima come segretaria o me la prendo io non la prende nessuno e l'ha chiamato ovviamente anche con la bocca sono molto grave nel senso che e non so esprimere bene allora lascia il tuo numero di telefono poi ti faccio sapere va bene allora 166 899 144 bene complimenti allora prendi qualcosa da bere? eh sì sono assedata cosa vi serve? tu cosa prendi? eh per me qualcosa di leggero sai sono astemia magari un whisky conciò però liscio te invece masculo come sei immagino per me acqua frizzante che ci vuole pesante ah tutto sto acqua non mi fa male ancora e che vuoi? alla tua beh tu vedete che la consumazione l'appagare e voilà ma vabbè scusa scusa ma devo fare una calafonata c'è 10 minuti torna ok ok ma dopo la serata che fai? dipende quando torna ti rego io addio ebbè dà sveglia vincela ebbè ah hai sei vantato scusa se ti ho fatto aspettare non poterlo fare una telefonata non ti preoccupare oh ma se ti eserpegno tutto da bene dici ma così mi fai diventare un jossa Grazie a tutti Guarda lì! Fanno come aiuta a morire nell'aria? E come un dappanderevo potete sparare! Io ci stai, io se tu ci stai! Per me va bene! MA-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Che fai? Poggi solo la ferra? Ma so proprio! Lo devi mandare qua sopra! Eh, forza, vaga, me ne ghiaccia quel cazzo! Ma che brava a farmi, cazzo! Aspetta, amiamo i buchieri! Questa è la dimostrazione di chi si accontenta il colpo. Meglio squerchessi quel fuoco che non ne averne proprio nulla. Sia per sempre, perciò sei da un po' che stai così male. Il tuo diploma in fallimento è una laurea per reagire. Puoi finger bene, ma so che hai fame. Grazie a tutti!